Certamente ora siamo negli anni in cui quando entriamo in uno stadio, quando entriamo in una metropolitana abbiamo la percezione di esigenza di sicurezza. Quindi questa tecnologia che oggi ha messo a disposizione strumenti molto potenti, a mio avviso sta vivendo un periodo magico. Magico per tutti, per l'operatore e per tante aziende che si sono specializzate nei vari settori di sicurezza. Siamo partiti 15 anni fa, abbiamo preso la strada della specializzazione del controllo dei perimetri. L'abbiamo fatto però in un momento in cui il mondo video non aveva raggiunto queste performance. Quindi pochissime telecamere, non si parlava assolutamente ancora di sistemi. E devo dire che oggi sulla domanda a che rapporto abbiamo ora con Milestone, è un rapporto eccezionale perché era il tassello mancante nell'ambito della sicurezza. Cioè noi rileviamo un'intrusione, la rileviamo talmente bene anche in modo nascosto, sotto il cemento armato. Abbiamo dei sistemi invisibili. Però il mercato ci chiede anche di vedere cosa rileviamo. Quindi noi faremo molto bene il nostro lavoro nell'individuare il punto, le zone soggette a possibili intrusioni. E ben venga un ecosistema Milestone perché è proprio la parte mancante. Quindi abbiamo avuto proprio questa conferma da un aumento delle vendite. Cioè l'utente finale quando oggi chiede un sistema d'allarme, una volta ci chiedeva il combinatore telefonico collegato con le forze dell'ordine. Oggi ci chiede di rilevare, di vedere. E quindi noi siamo in un certo senso facilitati ad appartenere a questi ecosistemi di gestione. E daremo sempre di più quel contributo tecnologico affinché il prodotto finale, sia di altissima qualità.